Lunedì 29 marzo in Puglia sono stati registrati 5.142 test per l'infezione da Covid-19. Sono stati registrati 786 casi positivi, 350 in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia Bat, 176 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione, un caso di provincia di residenza non nota, è stato riclassificato ed attribuito. Sono stati registrati 33 decessi, di cui 7 in provincia di Foggia, 46.494 sono i casi attualmente positivi di Covid-19 in Puglia.